Il Panatron Club di Bassano compie 40 anni e per celebrare l'anniversario ha organizzato una serie di attività e service per confermare la sua vicinanza e il suo supporto al territorio. Con i club di Schio e Vicenza ha dimostrato attenzione nei confronti degli anziani con donazioni alle case di riposo. Inoltre sosterrà le iniziative di Dynamo Camp, l'associazione che offre programmi di terapia ricreativa per bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, ancora donati a quartieri solidali, 1000 euro che saranno destinati all'aiuto concreto alle famiglie bassanesi che si trovano in situazioni di difficoltà.